Dai cazzo sole luna stanno uscendo dai cazzo se non annunciano qualcosa di bello oggi siamo davvero alla frutta Iniziamo bene eh E no ma dai ma Questo soffre di perlordosi ma come fai è un obeso di merda cioè non è che è obeso c'è proprio la spina dorsale che gli rientra dentro Poi vabbè c'è le scarpe a punta come i personaggi di Dragon Ball va bene Gli occhi in verticale Quelle due penne c'ha in testa che sembrano quelle dei contest pokemon quelli per la bellezza si no Cioè vi prego ha un corpo rettangolare per piacere ci hanno impiantato hanno impiantato una testa su un carciabag ma perché No cioè questo è inguardabile questo non si può vedere è terrificante cioè guardatelo Ditemi che malattia ha ha il cancro alla vita non si può vedere ma perché c'ha dei pua bianchi sul corpo Ha la lebra ha la lebra questo pokemon ha la lebra poi c'ha una pinna in testa che sembra un ventaglio Con quell'espressione lì felicissima cioè ma perché ma è un pokemon d'acqua il pokemon d'acqua di solito li fate belli Questo davvero cioè passiamo al prossimo vi prego Cosa sei un maiale molla stiamo scherzando un maiale molla Io ho paura di proseguire con sto coso cioè Cosa sei ti prego allora Ricapitoliamo un attimo è una palla Ha una molla è una palla con una palla in testa c'ha delle cose guance cosa siete Che schifo Ok perfetto questa è evidentemente la rappresentazione dei membri della game freak all'interno del gioco pokemon Perché per fare sto coso devi essere come lui Ubriaco perso La vodka fa male Non prendete la vodka prima di disegnare pokemon che uccidete le persone poi Altro che la vandonia questo qua fa sanguinare gli occhi Sanguinamento di naso mainstream Se mettiamo davanti sto coso che già è morto di suo Avete presente nell'anime quando i pokemon c'hanno le spirali attorno agli occhi quando sono morti Lui è già morto Muore in partenza sto pokemon Cioè entra in campo muore No un altro beyblade Un altro beyblade Cioè dopo Dopo quel coso lì come si chiamava Pinco pine così Poi questo Cioè un altro beyblade Io questo qua non so da dove prenderlo Io potrebbero avermelo rigirato dall'altra parte Io avrei detto ok perfetto tutto normale C'hai gli occhi chiusi Questo qua è Brock È Brock È Brock 2 la vendetta Perché? Perché? Perché dovete fare una cosa del genere? Perché? Perché dovete aggiungere una trottola? Lo avete già fatto Cazzo Cos'è sto schifo? E perché c'è una pokeball al posto del corpo? Perché nessuno gliele lancia le pokeball Chi lo vuole questo qua? Cioè siamo sinceri Qualcuno lo catturerebbe? Ditemelo nei commenti Ditemelo Praticamente tu cosa sei? Cioè sei un grimer fuso con i baffi di un magikarp Ottimo E hai dei rombi sul corpo Dei rombi Ok? Eh ma del resto mancava un semaforo nei giochi Pokémon Mancava Giustamente in un mondo senza macchine Perché non inserire un Pokémon semaforo? Cioè allora ditemi se questo coso non è un semaforo Ha una luce rossa Ha la forma da semaforo Cioè io non lo so Game Freak Sparami Sparami piuttosto Ma non queste cose Perché io ho paura di vedere adesso i leggendari Oddio non ci voglio credere È figo questo Cioè questo è davvero figo No vabbè c'ha pure due forme No io non ci voglio credere Ha pure una terza forma Cioè Va bene ok calma Non lo so Volete fare anche la forma sul mio cazzo? E sta pure per uscire la demo di sta merda Ma non ci voglio credere 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 Grazie.